ciao raga fischia like niente allora mi è arrivato questo pacco dalla dalla carpe insomma la malossi l'ha mandata alla carpe la carpe è il negozio dove mi servo io a proposito volevo dire che è inutile che chiamate il negozio e gli chiedete il mio numero di telefono perché non ve lo danno fischia d'accordo d'accordo bene allora questo è un pacchettino che pesa la bellezza di non si legge bene la pigiava troppo 3 2 3 kg e 722 però andiamo a chi andiamo a aprire questo pacchettino qui allora cerchiamo un cortellaccio cortellaccio è questo qui oh madonnina santa oh madonnina santa accidenti oh madonnina santa un tempiato e che sono questo marianna cane ma questi sono adesivi ma questi sono adesivi fischia o quanti adesivi sono sono due adesivi fischia raga sono 14 e due eh certo 7 e 1 oh quanti sono questi bu a un centinaio questi sono doppi sono bianchi e rossi si che si vede si vede fischia una vagonata qui c'è una pacchetta una pacchetta una pacchetta una pacchetta si quanto pesa? guarda là giù eh quanto pesa? un chilo? 9 e 9 i quanti i quanti i quanti i quanti i quanti i malossi raga no tanta roba fammi provare fammelo provare non ti stanno mai a te a me mi stanno mai a me a me mi sta ogni volta mi sta sbagliato ho detto ma io stavo testando guarda là guarda là no guarda là guarda là spiglia cazzotti con questi questi sono da prelevo di sangue questa è roba buona no è roba buona aspetta nooo nooo guarda là giù e giù e dignele quanti sono? 4 eh si sono 4 ne hai? guarda là nooo guarda là un'altra pacchetta guarda là guarda là guarda là che è malossi ma il 7.1 nooo i leoni questi sono quelli grandi questi sono quelli grandi eccoli malossi eccoli dai quanto le hanno lo scan mi sta mi si fa vedere guarda là quanti sono? una miglia né no guarda là fischia aspetta che poi se non siamo a questi guarda là guarda là appoggiamo tutto qui nooo guarda là un'altra mazzetta ma te 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 mazzetta eccolooo nooo nooo cappellino cos'è bellino provo 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 perché l'è doppio vedrai l'è pile l'è pile vedrai c'è il polo positivo e quello negativo così? certo va bene? l'ottavorano nooo cappellino di grande e poi? guarda che sono questi filtroni ma non lo so ma non lo so ma non lo so guarda che lavori si può fare le strisce sulla superstrada guarda è pacchetta ad adesivi sono questi ma sono esagerati raga sono esagerati va bene io ringrazio la malossi ringrazio la carpel butto tutto dentro qui dentro amma guantini butto cappelli butto tutto qui dentro saluta una miglionata ciao raga